6 anni fa il coordinamento Liguria Rainbow ha dato vita al Liguria Pride e da allora non abbiamo più smesso. Ad oggi però le attività del coordinamento hanno bisogno di crescere. Abbiamo l'opportunità di creare un nuovo spazio nel cuore del centro storico di Genova, uno spazio di visibilità LGBTQ, accessibile, dove le differenze non sono più l'eccezione. Questo spazio si chiama Rainbow Lab, un grande laboratorio pensato per generare meraviglie. Uno spazio di 100 metri quadrati con 8 vetrine che si affacciano su Vico Gibello, a pochi metri da via San Lorenzo. Un open space diviso in tre zone polifunzionali pensate per ospitare diversi tipi di attività. Ma quali sono le attività che vogliamo ospitare nel Rainbow Lab? Tutto quello che fino ad ora mancava a Genova. Attività numero 1, il Liguria Pride. E dove se no, scusate? Ovviamente il Rainbow Lab sarà la base operativa per tutte le attività legate al Liguria Pride, come ad esempio colorata cena. Attività numero 2, cittadinanza attiva. Il Rainbow Lab ospiterà dibattiti, riunioni e confronti su politiche di genere, politiche sociali e di lotta di ogni tipo di discriminazione. Attività numero 3, accoglienza. Il Rainbow Lab sarà aperto ai bisogni e alle proposte di chi ne frequenterà gli spazi. Attività numero 4, cultura. Il Rainbow Lab ospiterà presentazioni di libri e prodotti culturali. Attività ricerca del progetto HOMO. Gruppi di teatro LGBT+. E anche una biblioteca dei diritti. Attività numero 5, socialità. Al Rainbow Lab puoi venire per sbaccarti un po', per stare in tranquillità. E perché no? Anche per frequentare un corso di danza queer. Attività numero 6, kids. Nel Rainbow Lab ci saranno laboratori e attività per l'infanzia, ma liberi dagli stereotipi. Attività numero 7, ascolto. Avremo uno sportello legale LGBT+. E attività di ascolto per chi ha problemi con la percezione del proprio corpo. Ma ovviamente le attività non finiscono qui. Contiamo di aprire Rainbow Lab a febbraio 2021. Siamo passi alla conclusione. Abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto per coprire alcune spese. Puoi fare una donazione della cifra che preferisci alla nostra campagna presente sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Il link lo puoi trovare sotto questo video oppure più o meno su tutti i nostri social. Grazie! Grazie!